La bandiera nera del sedicente Stato Islamico non sventola più a Tabqa, in Siria. È stata sostituita dalle bandiere dei combattenti kurdi siriani e delle combattenti kurde siriane. La verde è quella delle donne. È stata così messa al sicuro questo mercoledì anche la diga sulle eufrate. Il timore era che i terroristi dell'Isil in fuga, aprendola, avrebbero potuto devastare tutto con un'inondazione. Tabqa è l'ultima città prima di Raqqa, appena a 40 chilometri da quella che viene considerata la capitale siriana del sedicente Stato Islamico. L'offensiva finale per la liberazione di Raqqa ci sarà a breve. Penso che con l'inizio dell'estate comincerà anche l'offensiva per liberare Raqqa. L'annuncio è arrivato questo venerdì da parte delle forze siriane democratiche. Mezzi militari americani intanto stazionano nel nord-est della Siria, probabilmente in vista di una stritta tenaglia su Raqqa. Secondo l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, a nord della città, appena a 10 chilometri dal centro abitato, sono già in corso scontri tra forze kurde e jihadisti.